Ciao a tutti, nuovo video e direi un video fantastico, ma che dico fantastico, stupendo perché vi voglio mostrare queste due bellissime collane, una non ce l'ho fatta, ho dovuto subito metterla e l'altra che adesso vi mostro perché l'ho tenuta così imballata come mi è arrivata però ovviamente prima fatemi ringraziare Cathy che le realizza a mano, sono pezzi unici e vi lascio qualche riferimento, soprattutto il nome del suo canale qui e quindi potete sbirciare tutte le sue stupende creazioni, adesso vi faccio vedere l'altra collana questa è l'altra collana e la trovate così con questo cartoncino, imballato benissimo prima in questa busta di plastica all'interno di questo sacchettino fantastico che io ho riutilizzato, quindi Cathy secondo me ha dei bellissimi gusti a parte tutto perché io adoro il rosa e il pois e quindi si insomma vi arriva in questo sacchettino e io ci ho messo tutti i campioncini quindi se vi ho fatto vedere il mio acquisto graditissimo, spero che appunto piacciono anche a voi spero tanto che vi piacciono, fatevelo sapere nei commenti, io le adoro, le amo, le amo, grazie Cathy e noi ci vediamo nel prossimo video, se vi va, ciao! Ciao!